Sì, veniamo da una sconfitta brutta in ogni caso, perché quando si parla di sconfitta c'è sempre un qualcosa da analizzare. Di sicuro sapevamo di giocare contro uno squadrone e lo ha dimostrato ieri, soprattutto dopo un primo set dove abbiamo giocato con un'intensità elevatissima e siamo stati bravi a spostare il palleggiatore dal punto rete perfetto, cosa che ci è mancata negli altri tre set. Quando vuoi giocare contro questo genere di squadra devi far sì che il nostro palleggiatore possa avere palla in testa un pochino più spesso. Ci è mancata un po' sia la battuta, come dicevo, che un po' la fase di ricezione e rischi di pagarlo. Merito anche comunque a Vakif, perché quando hanno tanta qualità e te la mettono in campo dal primo all'ultimo punto diventa difficile. Dobbiamo fare tesoro di questa partita perché andiamo ad affrontare l'altro dream team, se così lo possiamo definire. Perché con Eliano e Vakif in questi anni si stanno contendendo qualsiasi tipo di trofeo europeo e non solo. hanno per certi versi caratteristiche simili, per altri abbondantemente diverse. Il tema è sempre quello, nel momento in cui Woloscia palla in mano diventa difficile anche fare delle scelte, sia per la rapidità delle traiettorie che per il punto di impatto. Noi dobbiamo cercare di riproporre qualcosa che c'era venuto molto bene nella partita di andata, quello di mettere sotto stress con la difesa i loro attaccanti, cercando poi di tenere il nostro gioco in mano perché altrimenti diventa difficile e rischiamo di andare in una buca da cui poi contro certe squadre è difficile uscire. Quindi sappiamo di affrontare un'altra squadra fortissima. Il bello di aver giocato col Vakif è che ci ha permesso comunque di rodarci, lasciatemi una parola, contro un avversario davvero forte e sappiamo che nel momento in cui si abbassa lievemente l'asticella da parte nostra diventa difficile essere competitivi. Noi dobbiamo andare là perché la classifica ci interessa tantissimo, sappiamo che è uno scontro molto importante al vertice e ce la metteremo tutta.